buona giornata da nico schiodetto osserviamo la previsione per la giornata di mercoledì perché cambierà completamente la scena atmosferica sul vecchio continente passeremo dal gelo russo sui paesi centro orientali al più mite temperato atlantico con il ritorno guardate delle numerose perturbazioni che interesseranno invaderanno anche l'italia torneranno quindi piogge e nevicate su tutto l'arco alpino anche sotto i mille metri di quota dettaglio quindi della nuvolosità con il ibeccio che entrerà nel vivo sul mediterraneo venti molto umidi e le nubi sulla parte tirrenica al nord zoom precipitazioni perché ci conferma e le piovigini che investiranno in giornata il nord soprattutto guardate tra lombardia venezia ed emilia romagna piogge anche sulla parte tirrenica più consistenti tra liguria toscana e poi giovedì arriverà proprio un corpo nuvoloso con piogge sparse al centro nord neve anche sotto i mille metri di quota sulle alpi nel dettaglio possiamo osservare questa giornata fosca uggiosa al nord soprattutto in pianura padana la parte tirrenica con gocce di pioggia sulle centrali tirreniche fenomeni un po più copiosi tra liguria e alta toscana per l'estremo sud e temperature in aumento supereremo i 15 gradi dettagli maggiori scaricando l'app di travi meteo